Primi anni del 1800, il regno Lombardo-Veneto decide di imporre alla guida dei piccoli comuni un podestà. A Varese, il primo, nel 1814, è un avvocato, Giuseppe Piccinelli, apripista di tanti altri colleghi che per i successivi due secoli avrebbero governato la città. Quelli di inizio 800 sono anni inquieti, caratterizzati da un grande fermento e da una spiccata insofferenza nei confronti dei dominatori. Tenete conto che Varese era una città inquieta, era una città che non voleva assoggettarsi alla dominazione austriaca che quindi faceva moti, movimenti, sommovimenti che potevano disturbare. Allora al regno Lombardo-Veneto viene la pensata di mettere questi podestà. Varese era una città divisa in due perché, se pensate, era costruita intorno all'attuale Corso Matteotti con i negozi sotto i portici ribassati in modo che anche quando pioeva non si prendeva l'acqua e i commercianti erano contenti degli invasori, tra virgolette, austriaci perché, come ricorda uno scritto di Piero Chiara, paghen, paghen, cioè pagano, pagano, quindi non andavano a UFO. Ma il resto della popolazione che appunto si muoveva intorno al Corso Matteotti, all'attuale Corso Matteotti, era un pochino inquieta. Allora comincia la storia dei podestà. Il primo arriva nel 1814. Si chiama Giuseppe Piccinelli, cognome nostrano. A Brinzio i Piccinelli sono una dinastia. È anche avvocato e questo è un'altra curiosità che ci accompagnerà anche poi quando finiranno i podestà e inizieranno i sindaci. Gli avvocati sono la maggioranza di categoria che ha governato Varese. È appunto un avvocato e riesce a calmare i disordini. Per cui la situazione si normalizza. Poi ovviamente scade di mandato, anche perché essendo il primo è chiamato pro-podestà. Quindi ancora un po' di più del podestà, il primo che dà l'avvio.